Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Vi ricordate Romina Mondello, l'ex di Raul Bova? Ecco oggi che fino ha fatto! Un'attrice incredibile, la cui spontaneità ed espressività sono tuttora ricordate Il periodo d'oro di Romina Mondello si potrebbe collocare a cavallo tra gli anni 90 e la prima metà degli anni 2000 Difatti, si citino alcuni progetti televisivi di grande successo, in ordine cronologico, a cui ha preso parte, come ad esempio le ragazze di Piazza di Spagna, Cuccioli e Riz, Delitti imperfetti, nei panni della criminologa Giorgia Levi Non solo la sua professione poiché sovente è stata protagonista di molteplici pettegolezzi, soprattutto per la Love, stori con Raul Bova con cui ha recitato nel film Milano o Palermo, Il ritorno Ma adesso che fino ha fatto e cosa fa attualmente? Ecco svelato il mistero Romina Mondello, ve la ricordate? Il suo nome riecheggia ancora oggi, soprattutto memorabile in alcuni ruoli drammatici È difficile dimenticarla nel ruolo della sa menzionata criminologa e il pathos che ha suscitato quel ruolo, tra crimini e intrighi amorosi Per non parlare del personaggio di Chiara Leofonte, accanto al suo ex, nel dramma di impronta mafiosa Ma che fino ha fatto oggi l'attrice? Difatti, da pochi anni a questa parte non si è più vista in televisione, se non occasionalmente su social Al fine di rivelare tale enigma, di seguito si riportino tutti i dettagli in merito alla sua recente sparizione dal mondo dello spettacolo Ecco oggi che fino ha fatto punto le sue ultime apparizioni, sia sul piccolo che grande schermo, risalgono a pochi anni fa, circa 2018 fratto 2019 Da quel momento, si possono dedurre alcune ipotesi, innanzitutto che abbia preferito godersi maggiormente la famiglia Di fatti, si rammenti che è sposata con Nicola Veccia Scavalli, anche quest'ultimo nell'ambito artistico e creativo, da cui ha avuto un figlio, oggi maggiorenne Oppure, più semplicemente, ha voluto concedersi un periodo per se stessa, rigenerante, come è accaduto per Alessia Marcuzzi Ma, sorpresa delle sorprese, dal suo account Instagram emerge una foto, di poche settimane fa, ritraente un Chuck, da cui si deduce quindi un nuovo progetto televisivo Trattasi di un film, dal titolo I venne diretto da Giulio Ancora, girato in Calabria, stando ad alcuni elementi social Naturalmente, come si vince, è ancora tutto work in progress ma sicuramente è una bellissima notizia per tutti i suoi ammiratori che aspettavano, da lungo tempo, questo momento Non ci resta che attendere eventuali aggiornamenti in merito a questo suo grande ritorno Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video